si affacciate la di blu vedi la grande amico si affacciate la E io dovevo essere l'ongasso una cosa? Eh? E io, io, io. E' un po' non so che dire niente, vi si vede a spazzola. Spazzola, vi si vede intelligenti, stilati, ma non ti chiede a spazzola. E' stato un risposto... Senti, la spazzola diventa più grande di un'usca? Mmm... La trova... Dicino troppo grande. quella più grande non quella non la mega guarda ah sta insieme a me Sì ragazzi, guarda che succede è a piedi gli onici quando un professionista li petta, la prima faccia tutti i calci, è che io lo metto, non ho nei più di solito, non ho nei minorai, faccio un po' di colore e mi spazio, che fanno dei più di solito, sono i più di comandati, guardate voi. Grazie. No, no, se l'ho diventato come lui, no, no, non sono parlato in me, si riusciva a vedere un po' di me. No, lui, ecco, sì. Troppa difficoltà lavorare con l'inquadratura, eh? Eh, gli altri fanno scelto meno, cosa fa? Un centino. No, un centino. E le botte sul vetro, sentite, è proprio il fondo, eh, ragazzi? Le botte sul vetro del telefono. Incredibile, ragazzi, incredibile. Acqua, proteine, sole e gas. Vediamo il filo di gas.